Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, tu hai già visto One More Time? Sì, ho visto. Visto un video? Sì, un paio di persone, sì. Ok, quindi sai che ci andiamo a fare un viaggio in profondità? Sì, sì, ma io amo. Cioè, a me non piace la leggerezza, a me piace la pesantezza, per cui vai. Non saremo pesanti, ma saremo profondi. Profondi, hai ragione. Nel senso che per me è la cosa molto importante, soprattutto per una persona che fa il tuo lavoro, che vive molto appunto di apparenza, magari metti in soggezione perché sei una persona che lavora in tutto il mondo, invece io vorrei conoscere la persona, cioè umanizzare il più possibile, normalmente lo si fa attraverso i fallimenti, i momenti bui, perché ti avvicina molto a tutti quelli che ci ascoltano e che ci guardano in questo momento. Quindi, come nelle favole più belle, partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio. Dove sei nato? Allora, io sono nata a Lodi. Infatti il mio autore, Lodigiano, era strafiero che tu fossi Lodigiano. A un certo punto mi hanno detto che per intervista gli hai detto una roba come per dire ma a me fa cagare Lodi, quindi molla il colpo sulla città che io la detestavo e non vedevo l'ora andarmela. Mi hanno riso. No, più che altro ad un certo punto ho detto basta parlare di Lodi, cioè sembra che tutto quello che mi è arrivato nella vita sia perché arrivavo da Lodi. Invece no. No, però ecco, non vogliamo far passare Lodi come un posto di merda, per carità, perché io lo amo e poi sono fanfulina onoraria per cui assolutamente rappresento Lodi nel mondo. Però sì, io vedo Lodi come un punto di partenza dove potevo solo rimanere lì in basso o arrivare veramente in alto, per cui come dici tu i punti bui, Lodi per me è stato un punto buio. Ti ha fatto venire voglia poi di fare il passo dopo per raggiungere qualcosa in più. Io abitavo a Parigi, sono nato lì e a 17 anni sono venuto a vivere in Italia in Brianza ed era veramente, cioè nel senso tanti belli amici, mi ha insegnato qualcosa che non conoscevo, della semplicità, ma non vedevo l'ora di andarmene. Nel senso che senza patente io ero imprigionato in mezzo ai campi e quindi dopo pochi mesi appena ho preso la macchina sono andato via anche di casa, cioè non vedevo l'ora, c'era un countdown mentale, quei mesi sono stati eterni, rivedo con piacere le persone che sono lì, i miei fratelli ci sono rimasti per tanto tempo, però per me era importante andare a vivere una metropoli, laddove succedevano tante cose dove potevo andarmene a prendere. Esatto, allora io invece avevo il motorino nei campi e noi andavamo in giro nei campi a fumare, a fare cose così e per cui c'era sempre questo cartello all'entrata di Lodi con scritto Lodi gemellata con Lodi California, per cui tu immaginati d'inverno la nebbia, il motorino, ma c'era talmente nebbia che tipo avevi la patina che ti si ghiacciava di acqua sulla visiera del casco e io sognavo la California, per cui anche per me è stato proprio... La cosa strana è che tutti noi sognavamo di andarcene da Lodi eppure solo io me ne sono andata, questa cosa è veramente strana che dici ma... non lo so, è come se tutti i teenager dicono non vedo l'ora di andarmene nella città e poi però tutti sono rimasti, invece io sono andata. Per me ci vuole coraggio, nel senso o la famiglia fa il passo e allora segui, ma farlo tu da sola devi avere o le palle o un'opportunità che ti si presenta, quindi non è una cosa così banale, così scontata. Per me ci vuole più coraggio restare. Sì, col senno di poi è chiaro che... No, è proprio personalità, cioè devi avercelo dentro. Io per me ho sognato sempre in grande, da quando ero piccola comunque mi vedevo chissà dove. Me lo racconti tra poco perché vorrei partire... Torniamo all'inizio. Bravissima. Che anno nasci? Nell'84. Ok, figlia unica? No, ho due fratelli. Mio fratello... Sei in mezzo? Sì. Alessandro, un anno e mezzo più di me e Carlo Alberto, dieci anni in meno di me. Ah, wow. Sì. Stesso papà, stessa mamma? Sì, sì, sì. Carlo Alberto era un po' un errore, ma noi gli vogliamo tanto bene. No, però sì, diciamo che non era pianificato dieci anni dopo, però... Raccontami la tua infanzia, per come te la ricordi. Partendo dall'affetto, dall'amore dei tuoi genitori, cioè che genitori hai avuto? Perché so che tua mamma è un po' un epicentro nella tua vita, poi gli hai dato diversi ruoli e hai dato diverse sfumature, anche quando sei maturata, so che hai fatto un percorso, cioè hai capito tutta una serie di cose, diventano anche tu mamma, ma lo racconteremo durante. Però raccontami che genitori sono stati, come è stata la tua infanzia, la tua quiete personale, se ero una bambina felice. Allora, la mia infanzia era molto felice. Io ero una bambina molto estroversa, molto estroversa, per cui ricordo che questa cosa non era accolta molto bene a casa, perché io ero veramente molto estroversa. C'ero quella che all'asilo, tipo, speravo che quella che doveva fare Maria non volesse farlo perché aveva paura, perché io volevo fare il ruolo di tutti nello spettacolo, no? Ero quella bambina lì. La prima volta che sono andata a un playdate da una mia amica, tipo, ho detto stronza sua mamma, ma perché ero... Sai quei bambini che hanno talmente tanta eccitazione in corpo, energia... Che cos'è un playdate? Quando vai a giocare da un'amica. Ok. Playdate, sì. Per cui, non so se quello fosse il motivo, comunque mia mamma non ha mai invitato nessuno a casa mia, eravamo sempre io e le mie cugine, per cui ogni volta che avevo una possibilità di andare a una festa di compleanno, impazzivo o tipo... sì, proprio quelle bambine strane che hanno questa energia e che non sanno dove incanalarla. Cioè impazzivi che non vedevi l'ora? Non vedevo l'ora, ma facevo sempre qualcosa di strano, ero sempre troppo, no? Per farti notare? Ma non era neanche per farmi notare, stiamo proprio parlando anche, non so, di quando avevo 4-5 anni, no? Per cui quest'anno di poi, proprio vedo un po' tipo mia figlia, la mia seconda bambina un po' così. Cioè proprio tanta energia. Il problema è che quando sei così e ti fanno sentire che non è giusto essere così, ti senti strana, no? Ma i tuoi genitori ti facevano sentire importante? Allora, di sicuro... sì, sì. Allora, mio papà era sempre al lavoro, sempre, sempre al lavoro. Cioè dalla mattina, lui era nella distribuzione dei giornali e noi abitavamo sopra il business di famiglia, per cui lui era sempre in ufficio dalle, non so, 7 del mattino, 8 del mattino alle 9 di sera, per cui mio papà era sempre preoccupato. Mia mamma era sempre nervosa per questa cosa che mio padre non c'era mai, per cui io notavo questa cosa e notavo che glielo faceva pesare mio padre e notavo i litigi, le cose, no? E per cui non è che non mi facessero sentire importante, è che erano occupati con i loro problemi. Quest'anno di poi lo vedo, cioè mio papà era occupato a lavorare e mia mamma era preoccupata per mio padre tutto il tempo, no? E per cui notavo questa cosa. Il momento in cui io mi sentivo più importante era quando uscivamo di casa, che andavamo a fare, non so, le vasche in Corso Roma, queste cose qua o in lavanderia, queste cose normali che si fanno in provincia. E allora la gente fermava mia mamma e diceva, che bella bambina! E allora mia mamma proprio la vedevi così orgogliosa. E questa cosa poi è venuta fuori in terapia quando sono cresciuta, perché poi anche quando sono diventata modella ho proprio visto che mia mamma era, cioè riconoscevo l'amore di mia mamma quando veniva riconosciuta la mia bellezza. Per cui mi sono iniziati a venire i dubbi se mia mamma veramente amasse me o il fatto che agli occhi degli altri io fossi bella e per cui fossi un po' una cosa da mostrare in giro. Quindi tu ricordi i momenti di attenzione, di orgoglio di tua mamma in presenza di altri quando ti facevano un complimento ma mai a tu per tu dove ti diceva qualcosa, dove ti dava le sue attenzioni? No, perché poi appunto a tu per tu io ero questa bambina super espansiva, super... che non sapeva bene come gestire perché ero diversa da lei, insomma non ero una bambina normale. E forse questa mancanza di attenzione ti metteva nelle condizioni di voler emergere in altri contesti e quindi dire io ci sono, io esisto. Sì, non ti dico i contesti in cui è venuta fuori, cioè nel senso al di là del lavoro, no? Poi anche nelle relazioni con gli uomini. Però lì bruciamo la cronologia. Sì, sì, torniamo agli inizi. E quindi ok, questa è l'infanzia. Ok. Ti ho sentito dire in un'intervista che avevi dei genitori molto tirchi. Cosa intendi? Sì, è vero. Perché lo hai detto? Nel senso, come l'hai vissuta questa cosa? No, nel senso che poi sono cresciuta e mi sono resa conto che loro i soldi ce li avevano. Cioè io sono cresciuta come se noi non avessimo soldi. Non lo so, era tutto difficile. Cioè anche tipo posso andare al cinema con le mie amiche? Che mamma mia, ma lo facevano pesare come chissà che cosa. Cioè io Titanic l'ho visto una volta, quando le mie amiche andavano dieci volte. Ma perché non ti volevano far uscire, ti volevano tenere nella bomboniera o per i soldi? Beh, loro lo mettevano molto anche sui soldi. Cioè tipo, non so, i trend, io non li potevo seguire i trend. Infatti guarda adesso come sono i trend. Adesso spacchi. Però io i trend non li potevo seguire perché non mi compravano niente. Cioè non ti finanziavano la possibilità di comprare cose. E pure se io penso con il senno di poi appunto mi rendo conto che altri miei amici che magari avevano meno possibilità economica invece avevano sempre le cose che avevano tutti. Non so, non era una cosa che io volessi più degli altri. Era proprio che tu vedevi tutti i tuoi coetanei avere le stesse cose. Era il benchmark e tu avevi meno. E io avevo meno. E poi mi sono resa conto che erano tirchi. Quando sono cresciuta avrei detto comunque i soldi ce li avevano. Cioè la mia famiglia sta benissimo. Però forse ti ha insegnato qualcosa di positivo, di essere parsimoniosa con i soldi che hai guadagnato poi o invece ti sei sfogata al contrario. Ti sei sfogata al contrario. Succede spesso così. Assolutamente, sì. Adolescenza come va? Cioè nel senso, raccontami se ci sono dei momenti nella tua infanzia dove cominci a... conoscere dei demoni, a deragliare un po' più di quello che era lo standard. Raccontami tu. Tu conta che all'elementari ero brava, però ero molto... Esagitata. Esagitata. Alle medie invece ero proprio sfigata. Non mi piace come parola, però la posso usare su me stessa. Ero un po', sai, periodo quello strano. Anche fisicamente avevo questi brufoli, quel pus, sempre tipo o qua o qua. Avevo sempre da pallium. Ma gioco con te stessa, non eri... Ma no, non mi interessava neanche tanto. Però in effetti mi rendo conto che non ero cool, me ne sono resa conto con gli occhi degli altri. Per cui non ero mai la ragazzina cool. Ero abbastanza emarginata, diciamo. Ma io giocavo ancora con le bambole o le barbie, ancora alle medie. Alle medie, tra l'altro, andavo all'oratorio, come tanti fanno. Poi andavo al Grest, poi andavo tipo in vacanza con l'oratorio l'estate. Ah, ok. Sì. Cioè, neanche in questi contesti ero cool. Questa la dice lunghissima. Ma fammi un esempio. Allora, ti faccio un esempio. Andiamo in vacanza in montagna con l'oratorio. Ok. Per due settimane. Età? Dodici anni. Tipo, suona l'allarme antincendio di notte. Evacuano l'albergo. Nessuno si è ricordato di me. Per cui io, io sono pesantissima ancora tutt'oggi. Perché io non mi sono svegliata. Ho dormito, non ne sapevo niente fino alla mattina dopo, quando tutti parlavano di questa cosa. E tutti ridevano del fatto che nessuno si fosse accorto che io. Se ne sono accorti quando sono tornati in stanza e io ero ancora a letto. Cioè, capi? Ok. Potrei piangere adesso, ma non piangerò. Già pianto abbastanza con la mia terapista su questa cosa. E i tuoi, quando hanno saputo questo, ti hanno sgridata, no? Ma no, non ho saputo, perché noi non avevamo un grande dialogo, per cui non si parlava granché. Era una cosa che ti avrei voluto chiedere. Nel senso, manca a tu per tu, per mancanza di tempo. Tuo papà lavorava, tua mamma era magari focalizzata anche molto sul fatto che tuo papà non c'era abbastanza. Ma com'era il dialogo? Cioè, nelle cazzate e nei momenti belli, ti ricordi dei grandi discorsi fatti con i tuoi genitori? No, non si parlava. E quando facevi una grande cazzata, come la affrontavano? Punizioni. Punizioni e urla. Direttamente punizione, senza spiegarti come avresti dovuto farlo? Sì. Cioè, o non me la ricordo. Può darsi anche che nella mia versione dei fatti mentale, nella mia memoria selettiva, abbia deciso di dimenticarlo. Però io una cosa di cui mi sono resa conto, quando sono diventata mamma, è del fatto che mai i miei genitori, da ragazzina o da bambina, mi avessero chiesto come stai. Ok. Io invece lo faccio tutti i giorni. Cioè, io vado a prendere mia figlia a scuola e le dico, come stai? Come è andata oggi? Qual è stato il momento preferito della giornata? Cioè, cerco di fare un po' di dialogo, ma per sapere più come sta lei. Invece il dialogo con i miei genitori era più tipo, non so, ti hanno interrogato che cosa hai preso. Cioè, era solo su... Il pratico. Il pratico, i risultati. Anche lì, sai, quando ti dicevo tipo l'amore dei miei genitori era relativo, o quello di mia mamma mi sembrava relativo al mio aspetto, era anche molto relativo ai miei risultati a scuola. Ok. Per cui ad un certo punto, quando sono diventata teenager, ho capito che se io fossi andata bene a scuola, poi potevo fare tutte le cazzate che volevo. E così, infatti, è stata la mia adolescenza. Quando è la prima volta in cui deragli da adolescente? Nel senso, deragliare vuol dire la tipica brava ragazza che li conoscono ai perimetri e ai confini delle cazzate. Quando è che fai quella un po' più grossa delle altre, dove cominci a sentire il profumo della trasgressione? So già benissimo il momento. E' stato forse il primo sabato o il secondo sabato della quarta ginnasio, quando è iniziato il liceo praticamente. E' stato il primo sabato della mia vita in cui sono uscita di sera. 15 anni? 14 anni. 14 anni. Mio fratello, un anno e mezzo, era in due classi avanti nella stessa scuola, per cui sono uscita con lui il primo sabato sera. Esco, mi fanno bere, un ragazzo specificatamente mi fa bere una bottiglia di limoncello, ma proprio tipo, sai, peer pressure, tipo, bevi, bevi, se non una intera, tanto. E poi praticamente mi molesta, nel senso che mi inizia a toccare così. E non era mai successo che tu fossi stata toccata da un maschio? No. Forse avevo dato un bacio, forse mi avevo fatto un limone. e quella sera è stata la prima sera in cui da io vado alle Lodi mattutine, la mattina prima di andare a scuola alle medie, vado a una festa e tutta questa cosa succede e mia mamma mi trova collassata in giro per Lodi, per cui io ero, non so come mi sono trovata, persa per Lodi, per strada. Lei finalmente mi ha trovato nel mezzo della notte. Perché tu avevi un orario di rientro, non torni e lei ti viene a cercare. Mi inizia a cercare, mio fratello rientra senza di me, senza sapere dove sia, eccetera, eccetera. Per cui lei mi trova così, io torno a casa, inizio a vomitare l'anima, eccetera, eccetera. E invece di dire mai più, tipo il giorno dopo, tipo praticamente faccio un patto con me stessa che sarei stata una cattiva ragazza. Perché che reazione hai avuto quando è successa quella cosa quella notte? Ti sei sentita sporca o ti hai illuminato in un mondo che magari non ti piaceva così ma volevi perlustrare a modo tuo? No, io credo tutt'oggi di avere come un'allergia alle droghe, all'alcol. Per cui io ho un problema di dipendenza dalle droghe, dall'alcol e quel giorno è stata la prova. Perché per me la dipendenza è usare droghe, alcol o qualsiasi altra cosa nonostante le conseguenze. E per cui questa è proprio la prova che io ho un problema che va al di là. Sai, soprattutto in Italia cercano di fartela passare come se è un problema di valori, no? Tipo la melone, no? Adesso li mettiamo tutti a posto questi drogati eccetera eccetera, no? Invece non è così, è un problema. C'è una malattia, è come ci sono le malattie mentali tra cui c'è la dipendenza. Per cui io nonostante questa esperienza orribile, perché comunque sono stata anche molestata, sono stata male fisicamente. Stai parlando dell'esperienza a 14 anni? Sì, comunque da lì ho proprio sentito la necessità di continuare a bere, a drogarmi eccetera eccetera. Quando parli di drogarti non l'avevi mai provato prima? Alcol, droga? No. Era la prima volta? Sì. Poi li avevi anche esagerato? Sì. Però non ti aveva spaventata il fatto di aver magari vomitato, essere stata male? Zero. Zero. E quindi come continui? Continuo. Ma raccontami degli episodi. Continui vuol dire lo cominci a fare ricorrentemente? Sempre, dalla mattina alla sera, tutti i giorni, per anni, anni, anni. Tutti i giorni? Sì. Anche bere? Sì. Ok. Droghe, che tipo di droghe conosci? Tutto. Già a quell'età? Sì, 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 sì. Anche la cocaina a 14 anni? Sì, sì, sì. Conta che il mio fidanzato, quell'età lì, era lo spacciatore di Lodi, che è stato arrestato più volte e andava sul front page del cittadino di Lodi. Tra l'altro mio padre distribuiva giornali, perché mi ricordo il giorno in cui è stato arrestato il mio fidanzato. Era passato tuo padre il giornale? È salito dopo scuola, è salito a pranzo con il giornale e ha detto, questo è quello che ti viene a prendere tutti i giorni a casa. Loro sospettavano qualcosa del fatto che tu assumessi droghe, alcol o zero? In quell'età lì sì, però è quello che ti dicevo. Io a scuola ero bravissima e per cui dicevo, io ho fatto quello che dovevo fare. Sì, per cui sparivo i weekend, non tornavo, mia mamma è disperata. Quindi ti lasciavano tanta libertà? No, ma me la prendevo. Una volta mio padre mi ha anche cacciato di casa perché non ne poteva più e io tipo, wow, che bello, posso scappare di casa? Anzi, mi hai cacciato di casa e per cui mia mamma dopo, non so, dieci giorni, ti prego, torna a casa. Se proprio volete, avevo tanta fame dopo dieci giorni fuori. E visto che loro non elargivano denaro, come ti permettevi quella vita lì? Perché il fidanzato aveva la materia prima? Oh yes, il fidanzato mi dava soldi, sigarette, io so proprio bene, anzi faccio proprio boss. Eri una bad girl incredibile. Per cui questa bella vita che mi facevo, che poi al tempo io pensavo proprio fosse la vita migliore che potessi avere, diciamo che l'avevano anche tutti i miei amici, per cui io avevo talmente tante sigarette che nessuno si comprava le sigarette, per cui tutti fumavano le mie sigarette o le mie canne. Cioè avevo tanta moneta, compravo i caffè, mi diceva la macchinetta. Per dirti, però io super boss, per cui ho risolto così, hai capito? Tu, quell'epoca, quel quinquennio del liceo più o meno, 14, 18, 19, lo ricordi con felicità? Perché non è un male, è esperienza di vita, perché poi magari ti hai insegnato tante cose e hai affrontato la vita in modo molto più maturo. Te lo domando perché avendo dei figli, io ricordo che ero in Thailand una volta in vacanza tipo 4-5 anni fa, forse 6, e mia figlia adesso ha quasi 20 anni, e quindi parliamo delle canne, no? E allora l'unico modo, il modo migliore con lei per affrontare l'argomento era dirgli guarda che io, a me è successo diverse volte di fumare delle canne, era per mettermi a un livello in cui non si sentisse in imbarazzo e mi potesse fare delle domande molto aperte. E mi dice, veramente? Tu hai veramente fumato le canne? Cioè l'era... Scioccata. Sì, abbastanza, però glielo ho raccontato una cosa normale, per metterla su agio, dicendo guarda, qualsiasi domanda tu abbia, chiedimi perché la vita va vissuta e io ti racconto delle cose e poi se tu vuoi fare le esperienze le farai, perché più quella cosa gliela mostri come un tabù e forse più le farai venire voglia di cominciare da lì e magari andare oltre, quindi per me era anche un modo abbastanza intelligente e maturo di affrontare l'argomento. Io sono d'accordo con te. Esatto, quindi non bisogna vergognarsi di quello, fa parte della tua vita e almeno hai degli argomenti da condividere con i tuoi figli, perché se tua figlia ascolta queste interviste e forse lo fa... Ma lei sa già tutto. Esatto, come hai affrontato quell'argomento con loro? Io ne parlo in maniera anch'io super tranquilla con lei, proprio per questa ragione. Cioè io gliene parlo in maniera tranquilla anche per farle capire che non è così figo, non so come spiegarti. Per cui, ecco, sono stata anche criticata perché quando ho detto che andavo ai rave, eccetera, eccetera, dicendo ma come ti permetti con i tuoi follower così giovani, eccetera, eccetera, sei di cattivo esempio, però secondo me il fatto che io sia cresciuta in un ambiente così non puoi fare niente, non puoi fare niente. Cioè tipo anche, non so, andavo all'oratorio alle medie e ero sempre quella che doveva tornare prima. Posso andare al cinema? No, non puoi perché, non lo so, sei già andata al mese scorso per dirti. Era tutto no, 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 no. Adesso di sicuro non è solo quello, io credo di avere un'allergia alle dipendenze, ok. Però, cioè, io voglio essere il contrario. Per lo meno sto facendo questo esperimento con la mia bambina perché con me il proibizionismo o dire, oddio, 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 non ha funzionato. Per cui sto provando il contrario, per cui sono della tua scuola. Ad affrontarlo e a parlarne. Anch'io ero figlio di una sagra di no e quindi non appena tu hai un momento di libertà fai tutto con gli interessi perché è sempre no e quindi, cioè, io avevo dei genitori molto benestanti e rubavi i motorini ma solo per l'ebbrezza di farlo. Eh sì, perché era sempre no e quindi fare una vita così piatta e noiosa, cioè, frequentavo tante persone un po' malavitose a quell'età perché erano più attraenti dei figli dei ricchi che erano noiosissimi, no? Perché ero sempre nel perimetro del no. Quindi diventi curioso, anche una curiosità a volte pericolosa perché dici, ma io questa cosa non l'ho mai vissuto, non l'ho mai vista, fammi esplorare. Certo. Non capisco una cosa che mi hai detto, l'allergia alle dipendenze cosa vuol dire? Cioè non capisco se è un'accezione positiva o negativa, vuol dire che oggi è un qualcosa che non ti appartiene più? No. Io è da nove anni che non bevo alcol, non uso sostanze. Quando lo facevi ti piaceva? C'eri in un mood di happiness, di divertimento o ti ricordi anche dei momenti di presa male, negativi, dove sei stata fisicamente male per questa cosa? Tante volte sono stata molto male. Però non ti fermavi? No, però non mi fermavo. Poi per carità, appunto, io quando ero piccolina mi sentivo super figa per questa cosa, ma perché appunto tutti vivevano una vita regolare e invece io mi sentivo che stavo vivendo una vita pericolosa e questa cosa mi piaceva. Poi quando ero piccola gli dicevo io non voglio neanche vivere fino a 30 anni, che sfigati quelli… Cioè per qui ero proprio quella cosa lì, mi eccitava e ne ero orgogliosa. Però ci sono stati tanti momenti in cui sono stata male o che andavo in paranoia dura, cioè non era sempre divertente. Quindi tu eri una ribelle anarchica al cento per cento. Al cento per cento, sì. Finisci le scuole, quindi hai detto io comunque a scuola, malgrado il fatto che fossi dottor Jekyll e il mister Hyde portavi a casa al punto. Ti diplomi, giusto? Diplomo, sì. E cosa fai dopo? E poi c'era quest'estate appunto, c'erano i test d'ingresso per l'università, io ero caduta in motorino quando avevo 15 anni, il sistema pubblico medico italiano dopo tre anni mi hanno chiamato in quell'estate in cui in teoria mi sarei dovuta divertire tantissimo per fare l'operazione a ginocchio. Per cui mentre i miei amici si divertivano, andavo nei festival eccetera eccetera, io sono a casa a riprendermi e studio, studio, studio per passare i test dell'università. Passo tutti i test, per cui mi prendono al Politecnico e mi prendono in Brera per una cosa sperimentale, un corso in cui prendevano solo dieci persone. Lo dico perché sono molto orgogliosa di questa cosa. Però i miei genitori anche lì dicono non ci interessa, ti hanno preso il Politecnico, Politecnico laurea, per cui devi fare l'università. Però questa cosa mi ha rovinato perché io dovevo andare in Bovisa. In Bovisa c'era il Malamaniera che era una casa occupata fighissima e per cui tipo l'università ci sarà stata tre giorni forse e ho iniziato a dormire al Malamaniera. Cioè in una casa occupata? Sì, in uno squat. In uno squat. Finché un po' di noi occupiamo un altro posto in via 40 al 42 e io ero raver, per cui facevamo i rave, non ero molto politicizzata. Nello stesso building, nello stesso palazzo? Sì, perché in via 40 al 42 c'era un building tipo casa e poi c'erano tre capannoni, per cui facevamo proprio i rave dentro, da noi proprio, il massimo della vita. E niente, per cui era quello il mio periodo squat, rave, eccetera, eccetera. Finché non hanno iniziato a fare la modella, cioè proprio questo lavoro mi ha salvata. Università sei stata iscritta un solo anno? Sì. Praticamente frequentato un quarantesimo del tempo e i tuoi sanno che vivi in quel posto? Sì, sì, sì. Cioè non tornavo più a casa perché io... Cioè quindi si sono un po' rassegnati loro? Cioè nel senso eri talmente ribelle e forte forse anche caratterialmente che li hai un po' dominati, non riuscivano più a tenere a bada la loro figlia? Sì, conta che comunque appunto io non avevo una casa, non è che mi avessero preso l'appartamento a Milano per andare a scuola a Milano. Per cui cioè proprio non mi vedevano più tornare a casa. Ho iniziato un giorno, due giorni, non tornavo più. Poi ogni tanto tornavo tipo, non so, il venerdì sera per farmi la doccia e mangiare tanto, perché quelli sono stati anni di fame. Sì, si erano un po' rassegnati. E i tuoi fratelli cosa ti dicevano? Allora, mio fratello quello grande, lui intanto studiava giurisprudenza Parma e eravamo molto legati e lui veniva anche ai rave, però appunto lui aveva la doppia vita, per cui era super bravissimo studente di giurisprudenza e poi ci incontravamo ai rave il weekend. A lui stavo simpatica, per cui si faceva delle grandi risate. Ne parli al passato perché non è più così? Beh, lui adesso è notaio. È come se lui, tipo dalle due vite, avesse scelto la vita. E lui ti etichetta con la vita quella un po' malandrina? No, 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 non voglio metterla su di lui. Forse, sai, è più quello che penso io che lui pensi di me. Perché io sono sempre quella strana. Non vi siete mai confrontati sull'argomento? No, non ci siamo mai confrontati sull'argomento. Quindi c'è un rapporto freddo? No, non c'è un rapporto freddo, però eravamo veramente migliori amici. Adesso siete un po' lontani. Siamo un po' lontani, anche proprio geograficamente. Quando lo incroci, magari vieni in Italia, vi beccate, vi abbracciate, come funziona? Sì, sì, per carità, ci abbracciamo, però lui è veramente sempre al lavoro, un po' tipo mio papà. Infatti ha preso da mio papà, non abbiamo mai parlato di questa cosa, però proprio workaholic, no? Per cui le dipendenze, io, droghe, alcol. E lui è compulsivo di lavoro. Yes. Però ti piacerebbe affrontare questo argomento per ritornare comunque a quel sodalizio emotivo? Sarebbe veramente così emotivo che me lo schippo sempre, per cui sì, cioè nel senso che ho fatto talmente tanto lavoro in questi anni. Su di te. Su di me, anche con mia mamma, eccetera, eccetera, che in questo momento sono così felice che non ho più voglia di fare lavoro, che mi porti fuori emozioni forti, per cui adesso non avrei voglia di fare questo discorso, però sì, un giorno mi piacerebbe. Perché non penso neanche che sia un percorso, penso che sia proprio un unico incontro dove in maniera molto semplice tu dici a lui quello che tu desideri, quindi non c'è tu hai fatto, questa è colpa mia, questa è colpa tua, mi piacerebbe tanto che tutto tornasse come prima, una semplice frase. Sì, sì, hai ragione. Però purtroppo io, essendomi confrontata con tante persone, posso solo controllare la mia parte, cioè non sono mai pronta alla reazione dell'altra persona, no? Noi pensiamo sempre che nel momento in cui noi siamo pronti a dire scusa, riconoscere i nostri errori, eccetera, eccetera, poi anche l'altra persona sia pronta. Invece purtroppo l'esperienza mi ha insegnato che molto spesso l'altra persona reagisce in una maniera forte, non necessariamente al tuo stesso livello di consciousness e per cui ne soffri e per cui ecco è quello di cui ho paura, è per quello che io schippo, ho paura di vedere il suo dolore, cioè ho paura di vedere quanto io ho potuto far male a lui. Ok, però forse piuttosto che andare avanti così una vita intera e a un certo punto invecchiare, renderti conto che non ve lo siete mai detti. No, no, ho 38 anni. E lo so bene, e ti potresti vivere forse altri 50 anni nel mood dell'amore con lui per quanto sia possibile il tempo che avete a dedicarvi. No, sono convinta che arriverà questo momento, è proprio veramente, poi tipo adesso nella mia vita ci sono tante cose forti che sto vivendo, tipo non so, il mese prossimo faccio doppia massettomia, eccetera, eccetera, per cui… Non so cosa voglio dire. Mi tolgono il seno, per cui cioè non ho voglia, hai capito? Cioè, secondo me la vita è così, nel percorso per stare bene, il percorso di guarigione, secondo me va fatto baby steps, quando sei pronta fai un pochino, cioè non ti devi forzare di fare tutto subito, eccetera, eccetera, perché poi diventa veramente pesante. E io, quando tu dici, tipo, come ti ricordi questi anni, comunque questi anni anche in cui ero teenager e facevo tutte queste cose, per quanto io possa pensarli come, oh che ridere, che divertente, poi veramente dentro me li ricordo, cioè se penso a me stessa, all'età di mia figlia, a fare certe cose o a essere molestata o stuprata o rave, non è così divertente, è più tipo la risposta per cercare appunto di non affrontare il dolore, no? Però ho tanto dolore dentro e per cui cioè, anche devo essere molto attenta a come gestisco il mio dolore con cura e per cui anche la guarigione deve essere fatta piano piano, con i tempi giusti, eccetera, eccetera. E mio fratello, cioè, siamo stati i migliori amici da quando eravamo nati, così vicini in età abbiamo fatto così tante cose insieme e il fatto che la vita ci abbia un po' separati a me fa tanto male, ma sono sicura che a lui fa più male e per cui adesso non è il momento giusto. Parliamo dell'altro, del più piccolo, con lui invece che rapporto hai? Con il fratello più piccolo abbiamo un ottimo rapporto, ovviamente le distanze non aiutano perché io sono terribile con i telefoni e le cose, cioè non riesco proprio... Non rispondi? No, non è che non rispondo, però anche con mia figlia, quella grande, che abita a Parigi, cioè non è che siamo tutti i giorni religiose a chiamarci, non so, non riesco troppo a connettere con il telefono. No, però comunque lui era quello, piccolino il cucciolino, che io andavo a prendere, tipo, tutta fatta in macchina con la musica a palla, le elementari, per cui per lui tipo eroe. nessuno aveva una sorella così figa, insomma, per il resto, no, abbiamo un ottimo rapporto, sono molto orgogliosa di lui e ci vediamo, abita a Milano quando vengo a lavorare. Che lavoro fa lui? Lui è designer di occhiali, per cui senior designer, ha dieci anni meno di me, per cui è un ottimo creativo e sono molto orgogliosa di lui, sì. Quando tu vivi in quello squat, mi hai detto che hai cominciato a fare la modella in quell'anno lì? Sì. Come succede? Allora, succede che arrestano un altro, mi ho viena alzato. Ma che film guardavi quando eri piccola? Che sono curioso. L'odio era tipo il mio preferito. Quello di Cassell? Sì. Ok. Non guardavo molti film, ero molto occupata a fare altre cose, però quello me lo sarò visto 50 volte. E che musica ascoltavi solo così? Vabbè, appartenerei, ma tu personalmente? No, personalmente io ascoltavo sempre reggae, reggae o afro, infatti andavo sempre al, come si chiama, magari lo sai, è presente quel festival bellissimo che facevano vicino a Udine, dove venivano tutti, Alfa Blondi, Bob Marley, no Bob Marley no, magari no, però dei Whalers, sì, quella roba lì mi piaceva tantissimo. Ok. Quindi ti facevi anche le trasferte per la musica? Caspita, voi ragazzi, io andavo dappertutto, cioè prendevo i treni, andavo dappertutto in Italia, sì sì. Sai, comunque quando è un obiettivo, weekend, sì sì, facevo anche le trasferte. Praticamente ad un certo punto Milo, che era il mio fidanzato, che tra l'altro è forse l'unico dei miei ex a cui voglio un bene nell'anima ancora oggi. Il mio fidanzato della prima pagina che tuo padre ti ha mostrato e quello che era un altro fidanzato. Quello con cui facevo, scuottavo, praticamente a quel periodo lì c'era Milo. E no, Milo viene arrestato per pestaggio di un neofascista, su un treno, e avevano arrestato lui, Fede e Marta, che erano tutti, che bazzicavano. Tu come donna in quegli anni uno che pestava l'altro lo vedevi come un figo che aveva le palle o ti dava fastidio? Io pestavo tanto, anche, ero molto violenta. Poi per carità… Donne o uomini? Donne, sì. Ma pestavi nel senso che provocavi o ti difendevi? No, ti buttavi nelle… No, ti provocavo. Infatti la maggior parte delle volte poi alla fine ero quella che veniva pestata, però io iniziavo. Terribile. Sì, quel periodo lì. Era quel periodo che ero proprio arrabbiata, per cui c'è non mi parlare male. Sì, c'avevi collera, rabbia dentro. Sì, non aspettavo altro che qualcuno mi provocasse per fare rissa. Milo era agli arresti domiciliari, perché ero un periodo un po' morto. Io cercavo di fare qualche soldino d'estate per avere qualche soldo e ricordo che avevo fatto un lavoro di hostess nei supermercati, che sono quelle che ti rompono le balle e ti dicono vuoi provare la cremina nel supermercato, no? Vado a farmi pagare questo lavoro e mi faccio accompagnare da mia mamma a Milano per cercare di farmi comprare dei vestiti, ok? Per cui questa trasferta andiamo prima a prendere i soldi. Quando vado a prendermi i soldi, questa ragazza mi dice, ah, devi assolutamente andare a vedere questa gente perché tu devi fare la modella. E io al tempo non ti dico in che condizioni anche fisiche fossi. Per cui mangiavo pochissimo perché raccattavamo cibo dal mercato, la verdura quella che scartavano, cioè mangiavamo veramente quello che capitava. Ero magrissima, pallidissima, anche se era estate. Avevo il caschettino con la testa rasata, il piercing al setto, i capelli biondi però fatti da me con l'acqua ossigenata a casa, cioè ero proprio impresentabile. Per cui, niente, vado. A quel punto mia mamma era talmente disperata… Quanti anni hai? 19? Sì, 19-20. Mia mamma era talmente disperata che, benché quando io fossi teenager, tutti mi chiedessero di fare la modella e lei dicesse, no, deve finire liceo. A quel punto mia mamma era disperatissima e fa, andiamo, andiamo a vedere questa gente. Siamo andati a vedere questa gente e letteralmente la mia carriera è iniziata subito. Io non avevo niente da fare perché Milo era agli arresti domiciliari. Per cui ho detto, va bene, vi do tempo l'estate, era forse giugno, perché a settembre volevo andare a squattare a Barcellona e a fare la scuola di cucito perché a me piaceva fare i vestiti. E dopo una settimana stavo facendo, non so, il lookbook di Valentino. Dopo due settimane ho fatto la mia prima cover e dopo pochissimo ho iniziato a lavorare con Dolce Gabbana, con cui ancora lavoro oggi. Che era un brand che già da piccola ammiravi, sognavi, guardavi. Sì, mio padre aveva tutti i giornali sotto casa, no? Per cui io avevo tutte le campagne di Giselle, di Dolce Gabbana, appese in camera. Quando dici volevo andare a squattare a Barcellona, come ci si organizza per squattare? Cioè tu fai un viaggio ma sai già dove andrai perché c'hai degli amici che sono in una casa occupata? Perché c'erano tanti italiani che andavano a squattare a Barcellona perché le leggi a Barcellona insomma è molto difficile una volta che occupi un appartamento buttati fuori. In più sono rilassati gli spagnoli, per cui niente, il programma era quello, non di andare sapendo già che cosa a squattare, di andare, magari stare da qualcuno finché non trovavi. Cioè gli unici costi che hai è il viaggio perché poi da lì per mangiare e per dormire non spendi niente. Ma anche i nostri viaggi erano sempre tipo sul camion di qualcuno, no? C'è autostop? No, no, la nostra community erano tutti raver, per cui tanti dei nostri amici avevano camion anche grandi che facevano diventare case, per cui loro si facevano una casa dentro un camion e per cui andavano in giro così e per cui sì, probabilmente saremmo andati dentro uno di questi camion e saremmo andati tutti a Barcellona a squattare. Com'era vissuto il sesso in quel mondo? Perché mi ricordo un po' il mondo degli hippie moderni, no? O quello che mi racconti tu, cioè dove era molto appunto sesso, droga, rock'n'roll? No, tanta droga, poco sesso. Cioè c'era sesso, però era… Però poca roba era più… ci sconvolgiamo? Sì, quando sei sconvolto… Non hai voglia? No. Quindi rispetto alla modella dici io vado con mia madre in un'agenzia, è la stessa con la quale lavori ancora oggi? Sì. Ah che figo. E come succede il primo incontro? Tu arrivi lì e… E lui fa una faccia che in effetti se adesso un agente facesse una faccia così, con mia figlia, gli darei un pugno in faccia perché tipo… Dici, zio. No, per cui lui tipo, oddio, dove sei stata fino ad oggi? Perché tu dici uno così, faceva un po' il cascamorto? Cioè in che senso non vorresti che… Faceva un po' cringe, cioè che tipo dici… Un po' too much. Comunque avevo vent'anni, cioè per me… Adesso se ci penso, una vent'enne ero una bambina, no? Non lo so. Ma davanti a tua madre? Sì. Quindi era innocua la cosa? Era innocua la cosa, sì. Quindi ti fa un sacco di complimenti, quindi hai preso bene. Sì. E come avviene la cosa? Cioè nel senso che poi dopo uno ti chiama e ti propone subito un lavoro? Cioè spiegami proprio, fammi un tutorial perché non lo so. All'inizio devi fare i casting. Meno male che la mia carriera è iniziata subito benissimo, perché avrò fatto tipo dieci giorni di casting, perché Milo abitava a Zelo Buon Persico, che è fuori… È una località? Sì, fuori Milano. Io stavo da lui e tra l'altro non potevo essere lì, perché quando arrivavano i carabinieri io mi dovevo nascondere. Così, perché ero agli arresti domiciliari. Però io stavo da lui, prenevo il motorino e andavo a fare i casting. Ma raga, ma tipo una roba di un'ora e mezza in motorino per arrivare a Milano, cioè nei campi. E ricordo una volta mi si è anche rotto il motorino, l'ho dovuto spingere. Quelle robe che dici, ma come facevo? Non lo so, però sì, andavo a fare i miei casting con il motorino e niente. Allora, i casting sono la cosa più orribile del mondo. Ma dovevi fare i casting con un book, con qualcosa? Sì, con il book. E come ti sei trovata nel primo shooting della tua vita? Eri a tuo agio, sapevi come muoverti? Sì. Ok, ce l'avevi già dentro? Ce l'avevo già dentro dall'asilo, ti ricordi che… Ok. Sì, io non mi sono mai vergognata, se devo dire la verità. Non mi sono mai vergognata di niente, per cui sì. Era tutto naturale? Sì, sì, tutto naturale. Quindi fare i casting vuol dire che nella stessa giornata vai in più posti a candidarti, tra virgolette? Cioè l'agenzia ti organizza degli incontri? Sì, una cosa bruttissima. Ma fammi un tutorial, perché non lo so, e chi ci ascolta forse non lo sa e vorrebbe saperlo, perché magari si vuole cimentare in quel mondo lì. Mamma mia. No, è orrendo. Per cui tu vai, ti danno un indirizzo. Poi al tempo non c'era l'iPhone che mettevi Google Maps e andavi nei posti, per cui eri proprio con la cartina a guardare dove dovevi andare. andare, andavi e poi ti mettevi in fila e c'erano un sacco di ragazze che ti guardavano malissimo, perché io stavo bene. Sì, io stavo bene, però tante ragazze vengono veramente da dei background di fame vera, non scelta come la mia. Per cui, non so, da paesi del terzo mondo, insomma, per cui ti guardano proprio con la cattiveria di… In Cagnesco. Sì, cioè, se tu prendi questo lavoro, io faccio la fame. È bruttissimo, per cui non c'è quella cosa di sorellanza. E tu che eri una che faceva botte facilmente, come contraccambiavi quel bello sguardo provocatorio? No, io lì però mi sentivo un po' in colpa quasi, cioè nel senso mi dispiaceva, hai capito? Ti sentivi bella in quel momento? Eri sicura di te quando andavi a fare i casting? Sapevi che sarebbe successo? Ma io quello lo sapevo da quando ero bambina, che qualcosa di bellissimo mi sarebbe successo. Cioè, quello lo sapevo. Ma ti sentivi bella? Quello non è mai andato via. Allora, io sono sempre stata magrissima. Lascia stare il fatto che magari in quell'anno mangiavo poco, perché non avevamo da mangiare, però sono sempre stata magrissima. E di questa cosa ne ho sofferto sempre tanto, perché comunque non è che piacesse tanto ai ragazzi, piacevano di più quelle con le tette in culo, no? E per cui ne ho sempre sofferto. Però il fatto di avere accesso a tutte le riviste di moda, che mio padre aveva in capannone, mi ha sempre fatto pensare che comunque invece quelle modelle sui giornali erano come me. Per cui nel momento in cui ho iniziato a fare la modella, ho pensato che erano al posto giusto. Cioè, che quello era il posto per qualcuno magra. E nel periodo giusto, soprattutto. E nel periodo giusto, perché adesso non è più così. Quindi una ragazza che ha 18 anni e dice voglio fare la modella, oggi, come si deve muovere? Io non lo consiglio a nessuno. Ok, però sai, ci sono quelle che sono molto affascinate e dicono io lo voglio fare. Tipo mia figlia, mia figlia lo vuole fare, no? Però mia figlia è ovviamente privilegiata, per cui lei già avrà la strada spianata grazie a me, io conosco le persone, eccetera, eccetera. Se tu invece non conosci nessuno, è veramente una vita difficile. Perché comunque tra tantissime bellissime ragazze, pochissime ce la fanno, ok? Per cui rischi veramente di sprecare un sacco di tempo, magari un anno, a fare questi casting. Perché l'iter è quello. Fai casting, fai casting, fai casting. Fai dieci casti al giorno. Fai dieci casti al giorno. Per cui, insomma, cioè quella è la vera realtà. È per pochi. Sì, cioè nel senso che va bene a poche. In questo senso è... E una ragazza che si vuole buttare in quel mondo, comunque dai casting deve partire. La scelta dell'agenzia, un'agenzia serve per forza, non puoi fare questa roba da sola, perché non sai neanche dove presentarti. Anche se oggi giorno non è vero. Infatti ti voglio chiedere nel mondo contemporaneo come muoversi. No, io adoro i social perché, ad esempio, mia figlia, che comunque è mia figlia, già è stata... Quanti anni ha? 15. Però ha un sacco di agenzie che la contattano su TikTok o Instagram, per esempio. Per cui tante agenzie moderne fanno anche casting su Instagram, sui social media. Per cui tante persone vengono contattate in questo modo oggigiorno. Per cui ecco, anche a maggior ragione, se non vieni contattata in questo modo adesso, nel senso capisci veramente quanto stai spingendo tu o quanto c'è bisogno di te. questa industria, capito? Nel senso che, sì, è vero, l'idea di fare la modella è fighissimo, però poi la realtà di fare la modella può essere molto diversa. Beh, questo è un po' in tutti i mondi. Quando noi abbiamo gli esempi mainstream, sai benissimo che è per pochi, però poi da qualche parte devi partire. Che tipo di contenuti dovrebbe mettere una ragazza sui social per essere contattata? Oltre a avere magari un aspetto fisico più che bello, particolare, quindi avere personalità, ma tua figlia che contenuti mette? Ce la chiamano, la contattano perché è bella e sanno che è tua figlia? O semplicemente perché fai i contenuti giusti? Cioè che contenuti bisogna fare per attirare l'attenzione delle agenzie? Devi essere bella. È quello che io ti dico. Infatti io piuttosto alle ragazze consiglierei, visto che oggi esiste la figura della influencer, o nel senso io rispetto molto di più qualcuno che dice, sì, sono bella, carina, o anche ho personalità e mi trovo il mio spazio oggigiorno all'interno dei social, grazie ai social inizio a lavorare con i brand, eccetera, eccetera, perché mi sono inventata qualcosa, ma anche grazie alla mia personalità, perché oggi c'è questa possibilità che non c'era prima. Lascia stare che io ho avuto la fortuna di far sentire la mia voce, no? Però non è frequente questa cosa, per cui la modella è proprio solo quella cosa di essere bella e muta e immobile la maggior parte delle volte, no? Per cui in effetti oggigiorno secondo me c'è più la possibilità di dire trovati nel senso il tuo spazio, fai vedere la tua personalità e questa cosa paga, perché certe influencer vengono pagate più di me negli engagement che fanno con i brand. Per cui a me piace tantissimo questa era che stiamo vivendo dei social. Torniamo sulla tua carriera. Quindi vai in agenzia, fai dei casting per pochissimi giorni, quindi ti va bene, ti chiamano per un primo lavoro grazie a un casting o deciso tra virgolette a tavolino perché l'agenzia ha mandato il tuo materiale al cliente e si è piaciuta? Il primo lavoro che ho fatto, che era Valentino, era più un go and see, nel senso che erano un contatto del mio agente e per cui ha detto per favore vedetevi questa ragazza che è molto bella e speciale. E rispecchia le caratteristiche che state cercando in questo momento. Sì, e per cui così è iniziato. Fai Valentino? Sì. Quanti soldi ti danno nel tuo primo lavoro? Non lo so, ma io all'inizio. No, non lo so, non puoi non saperlo la tua volta e te lo ricordi per forza. Mille euro. Eh no, è figo far capire da dove si parte. Mille euro è il tuo primo lavoro, però Valentino tanta roba. Io pensavo tipo mille euro mi compro una casa, cioè io tipo… È perché non avevi mai visto così tanti soldi messi insieme, è ovvio. No, ero proprio tipo gazatissima, sì. Però non volevi dirmelo perché ti imbarazza dire che hai preso mille euro? No, no, perché il primo lavoro, quello di mille euro, era un altro lavoro. Adesso mi è venuto in mente, erano dei jeans, un brand israeliano, non lo so. Ok. Sì, tra l'altro israeliano, io mi rifiuto di andare a scattare in Israele perché io sono pro-Palestina e per cui devono venire loro a scattare a Milano e quello era il primo lavoro che pagò mille euro, sì, per quello che mi ha fatto io. Non avevi neanche senso di perdita, ti hanno detto ti do mille euro, tu hai cominciato a mettere già le tue condizioni ancora prima di buttarti in quel mondo lì? Cioè non avevi paura che ti mandassero a fanculo facendo la richiesta? No, io ancora adesso mi rifiuto di andare in molti paesi del mondo a lavorare. No, però adesso puoi scegliere. No, però prima ero ancora più, che cosa ho da perdere? Nel senso, anzi è più coraggioso oggi dire di no, perché oggi ho un mutuo, due figlie, ho 38 anni, al tempo non avevo niente da perdere. Quindi primo lavoro, Danny, misraeliano e vengono loro, scattano mille euro. Poi arriva Valentino, secondo lavoro. Sì. E cosa fai per Valentino? Un lookbook. Spiega cos'è un lookbook. Quando fotografi tutti i look di una collezione, penso che sia l'utilizzo sia più interno, per magari i buyer che devono comprare la collezione così. Per cui non è una campagna, è una cosa più interna. E poi che succede? Quando è che c'è uno switch dove succede quella magia che ti porta in questo percorso che tutti conosciamo? La magia fu a settembre. Sempre in quel periodo lì? Sì. All'inizio? Da giugno a settembre, quando io dovevo andare a squattare, purtroppo mi chiamò Dolce Gabbana per fare la sfilata in esclusiva. E poi anche campagna. Per cui lì era un vizio. Cosa vuol dire una sfilata in esclusiva? Non puoi sfilare per altri. È la cosa più figa che ti può succedere alla tua prima stagione. Per cui tu sei nuova. Non ti hanno ancora visto i casting director, per cui quelli che decidono, le ragazze che fanno le sfilate, non ti hanno ancora visto. E a porte chiuse Dolce Gabbana dice tu fai solo Dolce Gabbana. Per cui ovviamente ti devono pagare per fare solo Dolce Gabbana. E tu già sai che se chiedono l'esclusiva ti vogliono tanto e per cui hai più possibilità di chiedere tanti soldi. Ma non solo quello. In più tutti dicono aspetta, chi è quella ragazza che è in esclusiva? Perché si sa in giro quando una modella chiude l'esclusiva con un brand? Sì. E per cui tutti dicono c'è una ragazza nuova che è in esclusiva per Dolce Gabbana. E per cui tutti aspettano solo che accada la sfilata Dolce Gabbana per poterti avere dopo. Perché tu l'esclusiva ce l'hai finché non fai quella sfilata. Poi appena hai fatto quella sfilata puoi fare tutto il resto. Dal giorno dopo? Dal minuto dopo. E per quanti giorni prima non puoi fare niente con nessuno? Beh Dolce Gabbana mi sa che era uno degli ultimi giorni. Sì, Fashion Week per cui le sfilate sono non so sette giorni, sei forse quelle più importanti. Per cui metti che loro erano il giorno cinque. Ricordo che poi finì Dolce Gabbana e il giorno dopo c'erano Miu Miu e forse Moschino. E io per cui il giorno dopo feci Miu Miu e Moschino. Quanto vale un'esclusiva da sconosciuta? Non lo so, te lo giuro, non lo so. Però ok, ma io te lo chiedo solo per capire. Perché poi in effetti lì mi rendo conto che io ho perso il conto. Per cui io mi ricordo che ho vissuto come una che non aveva soldi per un anno. Cioè non avevo idea. Un anno da modella che cominciai a lavorare e incateni una cosa dietro l'altra. Tutti i giorni. Perché io ho letto una cosa dove tuo fratello un giorno ti chiama e ti dice guarda Bianca che c'hai i soldi sul conto e tu ti compri una casa. Comprati una casa, bisogna investire. Perché tu vivevi ancora nello squat facendo la modella, no? No, nel frattempo Milo era uscito dai domiciliari e avevamo affittato una casa a Milano in quattro però. Due coppie? In via Cagliero, in Belchiora e Gioia. No, eravamo tipo io, il mio ragazzo, il mio migliore amico e un altro. Però era una camera da letto. Gli avevate i turni? No, io e Milo dormivamo in un divano a letto in salotto. e non avevo idea. Era un lavoro dietro l'altro. Però io non continuavo ad andare ai rave. Cioè io mi ricordo una volta che dovevo fare una campagna di Guess a Roma, ok? E il mio agente me lo dice e dico no, perché c'era questo bellissimo rave. Quindi tu glielo confessi che comunque hai quell'amore lì per il mondo dei rave? No, lui sapeva tutto. Ok. Allora lui dice, Bianca non possiamo cancellare la campagna perché tu devi andare al rave. Facciamo una cosa, ti faccio venire a prendere dal driver, non so, alle tre di notte. Al rave. Al rave, il driver. Che ridere, era terrorizzato. Lui era terrorizzato e aveva tipo il Mercedes fighissimo così. Oddio, mi volevano. Dove mi hanno portato? Io mi faccio, ma probabilmente non si sono neanche accorti di te, no? E per cui ho dormito, non so, quattro, cinque ore in macchina e sono arrivata fresca a fare la campagna. Come vive Milo questa tua nuova vita? Perché lui prima di entrare, cioè prima di uscire anzi dal carcere, eri la sua compagna di squat e andavi ai rave e facevi solo quello. Eri in Olin nella vita con lui. Poi cominciavi ad avere una vita ben diversa. Allora, è lì che si è un po' iniziato a rompere il rapporto. Perché, allora, intanto io ero sempre me stessa. Anzi, pensavo che tutti avrebbero pensato che ero una venduta in quel giro. E invece no, erano tutti super orgogliosi di me. Era super cute. Per cui anche Milo invece era super orgoglioso e contento per me. Tua madre pure? Sì, sì. Mia mamma inizia ad essere felicissima. E tuo padre? Mio padre anche. Per cui tutti orgogliosi di me. Però con Milo ho iniziato a rompere i coglioni. Per cui io ho iniziato a lavorare. Da non facente nulla, ho iniziato a rompere i coglioni. Per cui tipo, Milo però, insomma, devi fare qualcosa con la tua vita. Ok, quel senso. E lì, dopo un po', mi sono stufata che lui non stesse facendo niente con la sua vita. Mentre io, appunto, ero sempre a lavorare. Poi ho iniziato a darmi anche proprio fastidio il fatto che comunque io fossi sempre occupata in giro per il mondo a lavorare. E invece i miei amici fossero sempre lì a fare festa. Questa cosa un po' mi pesava perché non potevo più essere sempre lì a fare festa. E come continua la carriera? Dopo Guess, quindi mi hai raccontato di Guess per dire ho unito l'utile al dilettevole, faccio il rave, vado a fare la campagna. Sì. Riesci ancora a fare questa doppia vita? A un certo punto molli il colpo con il mondo dei rave o di quella vita lì? Allora, mollo il colpo quando incontro il mio primo marito. Vado via da Via Cagliaro, vado a New York a vivere con mio amico Ozzy. Ah wow, un bel salto quantico rispetto alla vita precedente, ok. Comunque continuo a fare festa alla grande a New York con Ozzy. Ozzy è mio best friend ancora oggi. e vado a fare un lavoro a Los Angeles. E incontro il mio primo marito, Cristian. Quanti anni hai? 21. Ti volevo chiedere come si fa a decidere di andare a vivere a New York? Cioè da Milano avevi avuto una proposta di lavoro? Dovevo, perché al tempo non c'erano i social media, per cui il mondo non era così aperto, non era tutto il mondo paese, no? Se volevi essere una top model dovevi essere a New York perché lì c'erano tutti i fotografi fighi, eccetera, eccetera. Per cui vado lì, convinta dalle mie agenzie, poi vado lì a fare festa con Ozzy. Però io ricordo delle grandi chiamate del mio agente, io che guardo il telefono e non rispondo per giorni. Festa, festa, festa. Vabbè, comunque alla fine mi è andata di culo, sono ancora qua a fare la modella. Però no, vado a Los Angeles, faccio questo lavoro e c'era Cristian che era l'assistente al fotografo di questo photoshoot. non so perché mi innamoro, ma io mi innamoro così, mi innamoro di Cristian e rimango incinta, ma proprio subito. Subito. Subito, cioè tipo tre settimane che facciamo dating, ero incinta di tre settimane. Rimango incinta, lui mi chiede di sposarlo, cioè seriamente così, tipo dopo un mese mi chiede di sposarlo, io gli dico sì, perché no, ovviamente certo. Perché no? Ma sì, sposiamoci. Perdo il bambino, però intanto c'era già la proposta e abbiamo già iniziato a parlare di dove farlo, come farlo, eccetera, eccetera. Per cui ci sposiamo, dopo sei mesi, poi rimango incinta veramente di Matilde e lì mi cambia un po' la vita, nel senso che per la prima volta mi faccio il trip che sarò una moglie e mamma. E mi piace questo trip, per cui per due secondi cavalco questa onda di questa cosa qua. E? Cambia qualcosa nel lavoro o no? No, nel lavoro o no, anche se in effetti, cioè tu pensa alle responsabilità mia di fare una bambina dopo un anno e mezzo che ho iniziato la carriera. Cioè se uno si fosse fermato un secondo a pensarci, non l'avrebbe fatto. Ma tu in quegli anni eri incosciente, vivevi la giornata, cioè le tue emozioni al momento. Sì, cioè ma è andato avanti per tanto tempo però questo modo di vivere. Cioè forse è cambiato adesso, sì. Quindi fate una figlia, il tuo lavoro continua. Quando è che capita quel lavoro dove cominci a diventare una top model? No, io da subito, io subito top. Perché quando ho fatto l'esclusiva per Dolce Gabbana, poi ho fatto anche la campagna in esclusiva per Dolce Gabbana e lì, cioè, se tu facevi la campagna in esclusiva per Dolce Gabbana con Steven Meisel, eri... Già accreditata come top. Sì, sì. Per cui sì, sì, sì. Quindi fai una figlia. E come va avanti la tua vita da quel momento in poi? Lavori in parallelo? Lavori anche mentre avevi il pancione o li fai uno stop? No, li faccio uno stop. Ricomincio magari un po' più lentamente, ma poi anche no. Sì, tempo giusto di partorire. Lei è nata a giugno e sì, a settembre già stavo facendo le sfilate, per dirti. Qual è la vita di una modella che lavora? Nel senso, ci sono degli appuntamenti, dei momenti, come le Fashion Week, cioè il tuo editor ha cominciato subito a fare le sfilate. Qual è il va de mecom di una modella che lavora tanto? Beh, le sfilate sono un mese. Per cui iniziano con New York, Londra, Milano e Parigi e durano un mese. Per cui c'è il Fashion Month, che sono due mesi, febbraio, marzo e settembre, ottobre. E poi subito dopo le sfilate ci sono le campagne, perché ovviamente scattano le campagne di quello che ha appena sfilato e poi ci sono, non so, tutto il resto, i cataloghi o gli editoriali. Perché normalmente quando fai una sfilata per un brand, fai la campagna per lui o non è per forza un accordo? La cronologia è quella, per cui sfilate, poi scelgono le ragazze che fanno le campagne e poi tutto il resto, giornali, scatti per i giorni. Come va con il tuo marito? Con il papà di Matilde? Non bene, no, non è andato bene dall'inizio. Allora, io lì... C'è già quando eri incinta? Ma già quando ero incinta all'inizio, cioè... Io mi sono fatta proprio prendere dall'entusiasmo. Però io già, prima che ci sposassimo, sapevo che non ci dovevamo sposare, però era già deciso, ma perché no, così facciamolo. Però le cose non andavano bene, perché comunque lui era molto assillante, controlling, come si può dire? Possessivo. Possessivissimo, sì. Per cui era tutto un litigio, era tutto un... Perché hai parlato così al cameriere, tipo... Ti ho visto, sei una troia, stavi flirtando. Io che dico, tipo, vorrei un cappuccino e una brioche, tipo... O, non so, siamo a una cena di lavoro e io sono vicina a un signore e chiacchieriamo, perché che cosa devo fare, scusa, è guardare il piatto, chiacchieriamo e io vado, non so, a fare la pipì in bagno, mi trovo lui fuori dalla porta e mi dice... Ti ho visto come stavi parlando, sei proprio una troia, ti piacciono anche i vecchi, per dire, no? Era tutta una cosa così. O vado a farmi la pedicure e mi dice perché ci hai messo così tanto tempo dove sei stata? Cioè, era tutta una cosa così. Ovviamente adesso lo vedo di sicuro veniva dalla sua insicurezza, però non era un rapporto sano, per cui... Dopo quanto tempo a questo punto mi viene da chiederti di separate? Matilde aveva un anno e mezzo, per cui lei è nata un anno dopo il matrimonio, per cui... Abitavate insieme a New York e quando vi lasciate, con chi sta Matilde? Torno in Italia a vivere e porto Matilde con me. Ok, e il papà dove va a vivere? Il papà rimane a New York. Lui che lavoro faceva? Faceva il fotografo. Quindi lui rimane a New York, torni in Italia a vivere, con la tua bambina piccola e continui a lavorare. Poi che succede? Che ricomincio la mia vita, le festa, subito. Appena ci separiamo io vengo a Milano e iniziò a fare festa ancora alla grandissima. Quando facevi festa con chi rimaneva Matilde? La nonna, tanto la nonna. Infatti lei è molto legata ai miei genitori. Cioè, è fantastico, non è che era abbandonata. Lei si aveva la vita migliore che potesse viversi a casa dei nonni. Ah, tu la portavi a Lodi, non venivano loro a Milano, ok? No, no, la portavo a Lodi. Io facevo festa, non più rave, più tipo club o case, cose del genere, però comunque ho ripreso alla grande quella vita. molto disfunzionale comunque, nel senso che uomo dopo uomo, droghe, cose così. Però è un periodo brutto, ecco. Cioè, anche adesso, se penso magari quando ero ragazzina che facevo queste cose, un pochino da sorridere mi viene, no? Perché dici, Bianca. In quel periodo lì invece proprio, cioè, se potessi schipparlo, cioè, non ne vado orgogliosa, perché comunque ero a Milano a fare queste robe qua, cioè... Non eri felice, perché infatti, mentre prima le parlavi con leggerezza e divertimento, adesso ti sei un po' incupita raccontandomi quel periodo lì. Sì, sì. Quanto dura quel momento lì? Eh, dura... Pensando all'età di Matilde, Matilde aveva due anni quando siamo tornate a vivere a Milano, e poi aveva sei anni quando siamo andate a vivere a Marbeglia, per cui quegli anni lì sono solo tre anni in cui... Dove ci hai dato dentro? Sì, a Milano. Non ti ha mai creato problemi con il tuo lavoro? Cioè, nel senso, feste, non ti svegliavi la mattina, arrivavi sconvolta sul set, cose del genere. No, forse ho perso tipo uno o due aerei, però devo dire che a quel punto ero... In inglese si dice functional addict, cioè io ero sempre funzionale, io comunque ero... Sai che cosa? Era quella cosa che mi portavo dietro dalla scuola. Cioè, nel senso, finché io sono una brava studentessa, posso fare il cazzo che voglio, uguale col lavoro. Cioè, finché tu continui a lavorare e nessuno ti può dire niente perché fai quello che devi fare, poi faccio il cazzo che voglio. Facevi serata anche la sera prima di un lavoro o quello no? Sempre, tutti i giorni. In Olin per tre anni? Sì. Ok, vai a Marbeglia. Vado a Marbeglia. Con Matilde? Sì, con Matilde. E? E niente, inizio a non drogarmi più. Cioè, sono andata a Marbeglia per smettere di... Per staccare da quella vita lì? Sì. Ok, e succede? Sì. Stacchi completamente e quando vai a Marbeglia continui a lavorare tranne che la tua base di partenza era semplicemente a Marbeglia. Sì. Perché hai scelto quel posto? Sono andata lì per riprendermi e poi mi sono ripresa e ho detto fammi stare qua perché quando sono tornata a Milano per un secondo, un anno secondo, dopo essere stata bene, avevo chiunque che mi veniva a citofonare a casa con tentazioni diverse per cui ho detto fammi andare a stare là dove tutte le mie conoscenze, le mie amicizie erano persone che volevano stare bene come me. Per quanto tempo rimani lì? Quattro anni. Sì. Ok, fino a cinque anni fa. Mh. Perché te ne vai? Me ne vado perché il papà di Mia era americano e per cui volevo andare a vivere in America. Per cui c'è Mia a Marbeglia ma Mia nasce a Marbeglia. Infatti, facciamo un passo indietro. Quindi il tuo secondo marito, no, non ti sposi? Sì, sì, mi sposi. Ok. Le cose le fai bene, le fai alla grande se no non ha senso. Quindi, quando lo conosci, dopo quanto tempo è che sei a Marbeglia? Quanti anni hai uguale? Allora, io ho 29 anni quando vado a Marbeglia. Lo conosco. Subito? Subito. No, che è una cosa ricorrente nella mia vita. Cioè, incontrare un uomo e fare una relazione con questo uomo non ho mai deciso tipo, conosciamolo, vediamo se ci sta veramente dentro o no. Perché tu, reduce da Milano, avevi voglia di una relazione, di una vita meno tossica e di una relazione più seria. anche a Milano, anche queste relazioni magari momentanee, però era sempre tipo, conoscevo qualcuno, quel qualcuno mi dava le attenzioni che io tanto volevo e quello mi bastava per dire, va bene, mettiamoci insieme. Ok. Per cui avrei potuto avere anche, magari se non ci fossero le tempistiche che ci sono per avere un divorzo, magari mi sarei sposata dieci volte, capito? E avrei avuto dieci figli se Dio non mi amasse così tanto, nel senso, invece è successo solo due volte, due figlie, la cosa più bella che sia successa in vita mia, però i due ex mariti, quelli avrei anche schippato di sposarli, magari. non schippare subito la seconda che non mi ha raccontato niente, ricordami il nome del marito. conosco Matthew, americano, americano, ci siamo conosciuti d'estate, l'estate dopo ero incinta di Mia, Mia nasce a Marbella, lui abitava in America, intanto faceva avanti e indietro, ogni tanto ci veniva a trovare, e niente, nel frattempo mi arriva il divorzio finalmente, perché in Italia tipo ci vogliono vent'anni prima che ti danno un divorzio, finalmente mi arriva al divorzio, appena mi arriva il divorzio, decido di andare a vivere in America, però il problema è che Matilde invece decide di andare a vivere col padre a Parigi, di non venire con me in America. Quanti anni ha Matilde in quel momento mentre ti arriva il divorzio? Allora, io vado a Marbella che Matilde ha sei anni, per cui prima elementare e me ne vado che lei ha nove anni. Quante volte vedeva il papà Matilde? E non tanto, perché era il periodo in cui abitava a New York, per cui quando capitava però non tantissimo, non con regolarità, diciamo. Ok, e lei ti dice che vuole andare a vivere con suo papà? Sì, non è così semplice, io chiedo il permesso al tribunale spagnolo perché quando abiti in un posto devi chiedere il permesso al tribunale di competenza, per cui chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portarla con me in America. Il tribunale me lo rifiuta dicendo che Matilde deve stare a vivere in Spagna, quando io comunque sarei andata in California e il suo papà in quel momento abitava a Parigi, per cui non aveva senso, per cui avrei dovuto fare il ricorso, ma il mio avvocato dice guarda che le chiederanno con chi vuole vivere, tu hai mai chiesto a tua figlia dove vuole vivere? E io ho detto no, non le ho mai chiesto dove vuole vivere. Allora vado e chiedo Matilde dove vuoi vivere con me in California o col papà a Parigi? E ha detto col papà. Quello è stato tipo forse uno dei momenti più brutti della mia vita. Quando lei ti dice quella cosa in quel momento che pensieri fai con te stessa? Probabilmente niente, probabilmente mi viene una nebbia pazzesca nella testa. Cioè prendi la botta emotiva ma non fai tanti ragionamenti? Sì, cioè mi prendo questa botta emotiva ma ero decisa a fare quello che lei avrebbe voluto. Cioè non è mai stato un pensiero di fare una cosa contro la sua volontà. Cioè se lei voleva vivere col papà, cioè d'altronde è suo padre, non è che mi ha detto voglio vivere. Però essendo anche tua figlia volevo capire come avevi vissuto il dolore se ti avesse in un certo qual modo cambiata. Beh, mi ha fatto tanto male. È quella cosa lì più che altro che conta che quando questa cosa è successa io era da tre anni che non mi doregovo più, no? E lì è un po' quella cosa che dicevo con mio fratello, no? E lì è quando ti rendi conto che non è che siccome tu adesso stai meglio allora l'altra persona è pronta a perdonarti per tutti gli anni che l'hai fatto male e quella è stata mia figlia. Cioè adesso ne parliamo apertamente, adesso me lo dice, mi dice mamma io non ci volevo vivere con te, cioè tu eri un casino, a hot mess come si dice in inglese. Quindi ormai c'è un bellissimo rapporto aperto affrontate tutti, probabilmente la persona con cui parli di più nella tua vita. Sì, tra quelle che ami intendo. Sì, apertissima, chiedo anche consiglio a lei perché è molto saggia. No, no, abbiamo un ottimo rapporto. Vive a Parigi? Vive a Parigi, lei fa sei settimane di scuola e poi ha due settimane di vacanza perché così è la scuola francese, per noi va benissimo, per cui lei è sempre sull'aereo, il giorno che finisce la scuola è sull'aereo, viene da me. Io, tra l'altro... Ah, bella questa cosa. Sì, sì, è fantastica. In più io ho anche la fortuna di fare il fan parent, quella che non la deve sgridare. No, quando viene da me può fare tutto quello che vuole. In più io sono super cool per cui sono proprio la mamma cool e il nostro rapporto non è rovinato dalla quotidianità con un adolescente, per cui litigheremo tantissimo se abitassimo insieme. No, però il tempo è stata durissima capire che al di là degli sforzi che io negli ultimi tre anni avevo fatto per cambiare, essere una persona migliore, il male che le avevo fatto l'aveva portata a scegliere di vivere col padre. E il fatto che io fossi quella persona lì l'ha obbligata ad essere una bambina sempre molto matura. Io ricordo che la mia più grande paura in quel momento era non vorrei mai che lei da bambina non sapesse veramente che cosa vuol dire dirmi oggi voglio vivere col padre e io abito dall'altra parte del mondo. Cioè, che non se ne rendasse conto e che dopo due settimane che io ero in California e lei era a Parigi pensasse la mamma mi ha abbandonato. Per cui io questa cosa di questa cosa me ne volevo accertare. Non ti ha mai detto una frase del genere? No. Cioè, io me ne sono accertata. La lucidità con cui lei mi stava dicendo di quanto avesse pensato questa cosa di quanto volesse vivere col padre e che fosse proprio il suo più grande desiderio. Cioè, lei non aspettava altro. E il fatto che io andasse in California finalmente era la sua occasione per poter andare dal padre a vivere. Per cui in quel momento ho capito che lei veramente era super matura, sapeva esattamente quello che voleva e che non era un rischio lasciarla prendere questa decisione. Quando tua figlia Matilde ti dice che vuole andare a vivere con suo papà era pronto Cristian per quel passo lì? Era prontissimo. Diciamo che comunque anche lui furbacchione se l'ha lavorata cioè nel senso era proprio il padre che la vedeva poco e che le diceva sempre caspita ora sarebbe troppo bello se tu venissi a vivere con me. Questa cosa lui l'ha fatta sempre e io lo sapevo. Però in effetti comunque ciò non toglie che io fossi stata una madre. Quando io ti dico tipo ah lei è la vita migliore con i nonni ma lei vedeva tutto i bambini vedono tutto. Chiaro. Però l'importante è che il padre fosse pronto ad accogliere la propria bambina infatti e a proposito il padre era prontissimo e le diceva delle cose quando voi non eravate insieme poi come raccontava della mamma a Matilde quando vivevano tra di loro perché questo poi lo avverti quando vedi tua figlia c'è stato un buon balance? Quello non lo so so solo che Matilde è sempre stata super carina matura per cui con me proteggeva sempre il padre poverina perché nessun bambino dovrebbe capire così tanto da sapere che cosa dire non cosa non dire però lei è sempre stata così matura e per cui allo stesso modo non ha mai parlato del padre cosa faceva non faceva quindi vai con Matthew a vivere in America vado a vivere in America e ci sposiamo tipo il giorno dopo tipo dico dobbiamo sposarci per cui andiamo in comune ci sposiamo e non solo la prima volta mi sono sposata sapendo di non dovermi sposare anche la seconda volta mi sono sposata sapendo di non dovermi sposare e non solo quello dopo un anno mi sono risposata ho fatto proprio il matrimonio per la famiglia con Matthew ho speso un sacco di soldi per i matrimoni in America costano un sacco di soldi così perché ci meritavamo il matrimonio quello vero e proprio in che senso hai speso un sacco di soldi hai pagato tu il matrimonio? certo chissà no non lo so non è scontato no io ho sempre sposato persone per cui io ero quella che pagava diciamo ecco non ti ha mai dato fastidio? moltissimo però d'altronde l'ho fatto io per cui nessuno mi ha puntato la pistola alla tempia però dice tanto anche di me o di come mi rapportavo con gli uomini tanto lo facevi anche perché ti permetteva di avere il controllo? anche sì cioè adesso col senno di poi te lo dico dopo tanta terapia però sì quindi matrimonio in comune un anno dopo per tutta la family quindi li porti tutti a Los Angeles giusto? sì Orange County però sì California bellissimo matrimonio bellissimo va pure su Vogue dopo un mese ci separiamo cioè dopo un mese dal matrimonio che mi è costato un rene ci separiamo io dico basta quanto ti è costato questo matrimonio? ve lo chiedo perché l'hai detto due volte quindi un paio di centinaia di migliaia di dollari sì tantissimo ma un matrimonio che quello a Roma che avevo fatto a Roma la prima volta era molto più bello e si mangiava molto meglio non è che io ho fatto chissà che cosa di sfarzoso era proprio che in America sono dei ladri perché tutto costa molto di più e dopo un mese vi mollate? dopo un mese lo mollo ok ok decidi tu e rimani con Mia? rimango con Mia ma non è così scontato è stato veramente difficile lì sono stati un paio di anni difficili nel frattempo da quell'istante lei rimane con te in quei due anni di travaglio? sì rimane con me è stato bruttissimo perché come i matrimoni costano tantissimo anche i divorzi costano tantissimo in America mamma mia troppo è proprio un business per cui gli avvocati fanno andare avanti le cose all'infinito per prendersi tantissimi soldi e soprattutto il modo in cui decidono a chi dare il figlio è bruttissimo per cui devi fare tipo un anno di valutazione psicologica da una persona che fa solo quello io la bambina il padre e tra l'altro hanno intervistato anche la mia primogenita i miei familiari i miei vicini cioè devono fare proprio una valutazione psicologica di tutti per decidere chi si merita di tenere i figli ed è una cosa terribile perché immaginati essere sempre on the spotlight pensando tipo starò facendo questa cosa giusta sbagliata col rischio di perdere tua figlia è stato bruttissimo finalmente dopo due anni mia rimane con me e adesso vede il padre tutti i weekend vivete entrambi a Los Angeles io a Los Angeles e lui a Orange County che ha un'ora e mezza di macchina però pazienza tanto a Los Angeles anche andare a fare la spesa è mezz'ora di macchina per cui si fa questa cosa e adesso invece andiamo d'accordo l'altro giorno siamo andati a parlare con la maestra di Mia Mia intanto è una bambina felicissima per cui la mia guarigione si vede in Mia lei è una bambina felicissima che dice tipo dal niente ti dice I love my life è bilingue no lei è solo americana ok ed è proprio felice di vivere e stiamo andate a parlare con la maestra e la maestra dopo un po' che parlavamo ha detto caspita voi siete proprio l'esempio di good co-parenting e noi tipo perché in effetti andiamo d'accordo cioè per carità non è che siamo amici è arrivata col tempo questa cosa o sin da subito infatti io guarda devo fare una critica al sistema giudiziario perché facendo durare questi divorzi all'infinito si ritarda all'infinito il momento in cui si può andare d'accordo perché nel divorzo ci sono i soldi i figli si è nemici no? e invece poi quando si chiude tutto dici vabbè tanto i soldi diversi i figli è andata come è andata e per cui cioè dici vabbè visto che parli di soldi mi è venuta in mente una cosa normalmente quando una copia divorzia l'uomo dà gli alimenti all'ex moglie no? alla mamma dei figli tu dai degli alimenti ai tuoi ex quindi sei tu che dai gli alimenti a loro vabbè è paritaria come cosa nel senso giusto io guadagno di più la sentiamo solo da una parte sì 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 cioè non mi sorprendo il problema è di come gli avvocati nella fase in cui cercano di avere più soldi possibile si gestiscano tutta la cosa no? per cui tipo da una parte siccome ti vogliono togliere i figli dicono lei fa la modella per cui tipo è una poco di buono praticamente e per cui non dategli i figli no? perché è una poco di buono però poi usano il fatto che fai la modella e guadagni tanti soldi per gli alimenti però i soldi se li prendono hai capito? quella cosa è proprio brutta però non è neanche colpa in effetti dei miei ex mariti sai è il gioco del legale con Christian come va? con Christian non interagiamo molto perché mia figlia ha 15 anni e per cui non c'è bisogno per cui io la chiamo e gli dico quando è che finisci la scuola quando ti devo prendere il biglietto è tutto così facile e invece con Matthew anche non interagiamo veramente cioè non è che io faccio finta di essere amica con nessuno ma proprio con nessuno non sono capace di fingere io nella vita proprio non ho mai imparato tra l'altro io una volta ho parlato parentesi ho parlato con una psicologa infantile per chiedere consiglio con Matilde per chiederle se io dovessi far finta di essere a posto con suo papà e la psicologa mi disse no la cosa ideale sarebbe che tu veramente fossi a posto con lui in modo che il messaggio che è passato è quello però siccome tu hai tanto risentimento nei suoi confronti non fare mai finta di amarlo o di andare d'accordo perché se no la cosa è doppia cioè tua figlia vedrà che è ok mentire e questa cosa veramente è tipo uno degli insegnamenti più ha aperto un mondo sì e questa cosa cerco di dirla il più possibile perché dico noi da genitori cerchiamo sempre di far finta per proteggere i nostri figli e invece i nostri figli sanno esattamente quella la verità e in più gli passiamo anche il messaggio che va bene mentire ed è veramente brutta questa cosa io la vedevo con i miei genitori cioè io vedevo mia mamma ad esempio che non so incontrava qualcuno per strada che magari le stava sulle palle e faceva ma ciao che bello tu invece sei molto diretta io sì cioè non faccio finta se non mi piace non mi piace nel senso ma lo leggi proprio in faccia come va il tuo lavoro? il lavoro va bene devo dire che sono molto felice sì sì sono molto felice ma sono più felice che mai da quando ho capito che avevo un following sui social e ho iniziato ad usarlo perché lì sono diventata un po' io la direttrice di quello che voglio dire di quello che voglio fare io sono super fan dei social per cui quando cercano tutti soprattutto della nostra generazione cercano di ammazzarli sempre questi social e dico no allora ci saranno anche i lati negativi va bene ma in tutto ci sono i lati negativi ma l'opportunità che ti danno i social anche i ragazzini sono incredibili cioè di identificazione per cui qualsiasi sia la musica che ti piace qualsiasi sia la tua apparenza cioè trovi gente come te per cui tu appartieni per cui non sei più a Milano non sei più a Lodi probabilmente mi sarei drogata di meno se ci fossero stati già i social perché mi avrebbe dato accesso a un mondo invece di essere io a Lodi con le persone con cui ero a Lodi avrei trovato persone come me che magari avevano gli stessi interessi che avevo io e per cui avrei avuto degli interessi invece non avevo altro interesse che appunto fare quella vita perché mi hai parlato dei social quando ti ho chiesto come andava il tuo business perché ci vedi un business sì c'è già un business lì c'è un business io ho avvertito una cosa sì ti ho studiato un po' in questi giorni dovendoci contrarre oggi ma solo perché come vedi non mi preparo niente ma avere dei punti di riferimento conoscerti meglio e ho visto il tuo format su YouTube sì ti piace? lo trovo figo mi piace il modo in cui ti approcci sei super naturale mi piace sì e però sembra che arrivi un però infatti no 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 un però bello nel senso mi hai dato l'impressione quindi sto uscendo da quello che è la bontà del contenuto che è molto interessante e poi tanto facendo cose impari cose quindi leggi commenti quindi sicuramente puoi solo che salire ho l'impressione che tu comunque voglia in un certo qual modo non solo fare un business passivo quindi hai un following dei brand o delle opportunità ti arriva assolutamente però magari domani aprire anche un'azienda cioè ti vedo che sei molto centrata su quello cioè molto manager sono molto focus adesso ma da poco è da pochissimo infatti adesso so che vai a dopo questa intervista vai a vedere la nostra The House io non potrò avvenire che devo fare un'altra intervista un'ora dopo sì e quindi ti accoglieranno ti aspetteranno e scoprirai un mondo io non vedo l'ora e tra l'altro noi abbiamo preso spunto da Los Angeles quindi da Hype House abbiamo cercato di migliorare una cosa che qualcuno di più innovativo aveva inventato prima di noi e di portare dentro due elementi in più rispetto a quelle cose quindi farla diventare un'academy quindi cercare di portare un processo di attenzione a questi giovani che sono un po' svogliati di imparare cose e fargli capire quanto è arricchente essere un po' più colti essere un po' più consapevoli e quindi siamo partiti dalla politica e da tante altre cose quindi abbiamo cercato di fargli appassionare di cose senza andare a fare la lezione frontale perché poi hanno l'attenzione di un pesciolino rosso dopo due secondi li perdi e di far trasudare le pareti di quella casa di stimoli per far sì che loro possano fare un passo successivo ma poi la vedrai perché te lo dico perché ho l'impressione che tu domani possa montare business come manager dietro a quella cosa Allora devo capire perché io sono dei pesci per cui come hai visto nella mia biografia cioè io sono molto istintiva e per cui è difficile cioè nel senso hai il business mind sai se tu fai da sempre un business in cui ti chiamano e ti dicono ah devi andare a lavorare dopo domani va bene il budget non va bene vuoi farlo non vuoi farlo è difficile cioè io tutti quegli skills che servono per fare un business non li ho avuti no? mi è andata bene però sono pronta cioè a parte che sono pronta hai voglia ho voglissima infatti l'avevo più o meno intuito la cosa che a me piace del digital ad esempio è che mi dà l'opportunità di andare io dai brand che voglio io con cui io voglio lavorare e dire io ho un'idea e questa cosa mi piace tantissimo cioè spero che poi si traduca proprio ma a parte che anche questo spero io ho sempre grandissimo ottimismo per cui cioè non è che vivo in paura io già vedo cose e ci credo tantissimo hai un animo creativo? tantissimo per cui questa cosa mi ha salvato cioè da quando ho capito che avrei potuto utilizzare la mia creatività poi il mio cervello è iniziato a produrre cose per carità poi magari ancora non si traduce in quello che magari vedete voi no? però ho un sacco di idee un sacco di cose che voglio fare e spero appunto di imparare a tradurle poi in business quello adesso è diciamo la mia sfida però a me le sfide piacciono cioè io sono proprio pronta yes cioè non riesco a stare ferma tu avevi scritto sul profilo di One More Time di Instagram perché avete censurato una parola ti do una dritta visto che ti butti nel mondo del contenuto perché l'algoritmo se no non ti fa girare quel contenuto quindi lo devi sia più che bippare devi togliere una vocale mentre lo pronunci e anche nella parte pistolare di sottotitoli se no quella cosa non performerà mai ah ok grazie io tipo ti voglio come mentore si dice mentore? sì no perché è mentor in inglese ok mentorship sì mentor mi devi fare mentorship in business ma tu quante volte vieni in Italia? io guarda di solito tipo una volta al mese per la famiglia? no no per lavoro io vengo tipo questa volta sono venuta per tre giorni riparto domenica ma mentre sono qua lavoro 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 mi piace tantissimo e come hai messo in piedi la produzione su YouTube? cioè chi hai preso per fare le riprese per montare cioè come hai fatto a montare la produzione oltre all'idea? allora la prima volta per mettere insieme il team ho messo su un team qualcuno mi ha consigliato eravamo proprio tutti ragazzi un po' alle prime armi io tipo ragazza mi piace che mi chiamo ragazza gli altri erano veramente ragazzi ventenni ventenni e l'abbiamo fatto io lo volevo fare tipo nel giro di cinque giorni ho detto dobbiamo farlo dobbiamo trovare qualcuno che almeno ci paga i costi per me la priorità era farlo non era tanto guadagnarci e per cui l'abbiamo fatto infatti ancora ad oggi non ci guadagno e lì mi devi dare consigli però però monetizzi le views? non hai attivato la monetizzazione su YouTube? ok è un po' come quando eri negli squat guadagnavi ma non realizzavi bene in che epoca tu stessi io mi diverto però insomma bisogna anche essere smart che vergogna adesso mi vergogno però non mi devo vergognare stai sperimentando non ho paura se non conosci un mondo finché non lo esplori non lo potrai conoscere giusto se io parlo del tuo mondo sono un analfabeta quindi se non me lo insegni tu io non so niente certo sì sì però vabbè un po' mi vergogno a fare queste figuracce però pazienza cioè nel senso almeno vedi io che non ho conoscenza però sono orgogliosa di me che mi butto comunque cioè io voglio fare questa cosa e piano piano imparerò anche dai miei errori che è come si impara tutto comunque invece adesso l'abbiamo prodotto con Condenast abbiamo trovato uno sponsor un deal sì quel format su youtube sì 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 però appunto io lo vedo molto più grande di quello che è nel senso per me è un po' è la prova facciamo sta prova qua su youtube ma ho sogni molto più grandi cioè non di youtube tra l'altro quando mi dicono sarebbe bellissimo se fosse su una platform eccetera eccetera io dico e invece a me piacerebbe tantissimo che diventasse grandissimo su youtube perché concordo in pieno per me one more time non è netflix è youtube libero gratis per tutti e quella cosa con quella grammatica io sono innamorata di youtube e tra l'altro anche questa cosa l'ho imparata io sono così grata di avere due figlie una è teenager l'altra bambina la bambina non vuole neanche vedere netflix prime cioè lei guarda youtube e il bello quello che secondo me e di sicuro ti ci metto dentro poi al massimo ti ci togli noi siamo genitori diversi da quelli che sono stati i nostri genitori perché invece siamo la prima generazione che invece di guardare alla generazione dopo dicendo noi sappiamo tutto voi non sapete niente invece noi siamo al contrario siamo delle spugne almeno io le mie figlie le guardo come la risorsa più grande che io ho per restare giovane per continuare nel business cioè proprio tipo insegnami guarda io ho due figli lei ha quasi 20 anni tra poche settimane e lui ne ha 7 con la stessa moglie perché mi fa spesso la stessa domanda come per dire ci impieghi 12 anni per bissare però a prescindere mia figlia lei non glielo ho mai detto quindi questa volta forse lo sentirà e lei per me è un benchmark incredibile sulla Genzino sulla sua generazione e mio figlio lo è incredibilmente anche lui in base a quello che guarda in base a come reagisce rispetto a un certo video quindi per me è fondamentale cioè loro insegnano a me tutti i giorni delle cose non lo sanno neanche però è io parto da lì cioè Death House parte da due cose da mia figlia vedendo che faceva dei discorsi con noi e quando c'erano i suoi amici in nostra presenza che erano nulla cosmico quindi ho detto quella generazione non è proprio spronata stimolata e quindi dobbiamo trovare un modo pop per fargli imparare un sacco di cose fighe ok e poi il mio socio che mi ha mostrato alcune cose interessanti un direttore creativo e lì l'abbiamo fatto però i figli per me sono dei dei pusher di idee pazzeschi siamo sul rush finale sì due cose ti voglio chiedere prima dell'ultima domanda se sei innamorata se sei felice come stai? sono felicissima come non sono mai stata così felice nella mia vita guarda cioè tipo la mia vita è bellissima infatti anche mia figlia che dice I love my life e poi mi chiede sempre tu? e io I love my life my life is amazing ma è vero cioè la mia vita eppure non è perfetta ti dicevo tra un mese io mi opero e devo togliere il seno preventivamente perché ho una mutazione genetica che mi rende all'ottanta per cento più prona comunque era la mia seconda domanda perché prima me l'hai buttata lì infatti non sapevo se era un qualcosa di estetico o qualcosa di perché tanta gente ovviamente quando ti dicono come stai e ti vedono così felice pensano che sia un momento in cui tutto va bene non è necessariamente così infatti è per quello che sono felice della mia felicità perché non è che è tutto perfetto no anzi magari è anche un momento abbastanza difficile è un momento in cui anche dal punto di vista professionale io voglio fare tutte queste cose per cui è un momento di shift no eppure non sono mai stata così felice mi sento serena con me stessa serena con le mie figlie proprio mi sento in un bel posto sì l'unica cosa che vorrei è il corpo che avevo quando avevo vent'anni cioè non è per il corpo perché sono superficiale ma è perché vorrei ricominciare è come se no dico cacchio io amo così tanto la vita adesso però ho quasi 40 anni e per cui mi avvicino alla fine che vita pazzesca puoi fare da adesso in poi perché sei matura esperta e consapevole di tante cose di cui mi hai parlato adesso che prima vivevi con leggerezza quindi oggi puoi scalare una marcia importantissima ti provo avere soddisfazioni diverse chiaro è ovvio però poi come tu dici io vado in terapia però ho una scala di priorità non mi sento di fare certe cose adesso le farò la stessa cosa non puoi avere tutto però se il tuo balance è così positivo sì ti direi bella lì bella lì bella lì veramente chiudo con una domanda meno leggera ok e ti voglio chiedere se hai paura della morte io ho paurissima della morte ma per più guarda infatti più sono tipo così che ti dico oddio la mia vita è bellissima più mi viene l'ansia che finisca cioè cacchio io non l'ho mai amata così tanto la vita e per cui sì fa paura e per cui anche per quello che te lo ributto lì no però io in effetti ho dovuto spiegare a mia figlia perché tra un mese mi opero a quella piccolina non quella grande lo sa io a quella piccola gli ho detto io amo talmente tanto la vita che il mese prossimo mi opero perché in effetti è quello cioè perché io faccio un'operazione così drastica preventiva perché se io ho l'80% di possibilità di prendere un tumore io sai che cosa faccio tutto quello che devo fare per ridurre questo rischio però è bello dal momento in cui ho iniziato a dirlo a me stessa così mi sono reso conto che è veramente così è una cosa bella non è più una cosa negativa è una cosa positiva per cui è proprio sono orgogliosa di me stessa perché la mia mente mi salva mi continua a salvare e cioè la mia mente spacca il culo veramente e a proposito di orgoglio non lo dico mai perché non mi espongo sugli altri ma io sono molto orgogliosa di te perché hai preso veramente in mano la tua vita in una maniera molto matura bellissima quindi ti faccio un augurio grande 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 grazie abbiamo finito grazie grazie a tutti